Capitolo 7 Il mio primo trimestre a Lowood mi parve un secolo, e non un secolo d'oro. Dovetti lottare duramente per abituarmi alle regole nuove e ai compiti insoliti. La paura di sbagliare su questi punti mi tormentava più che gli sforzi fisici, a cui mi sottoponeva il mio destino, che tuttavia non erano lievi. Durante gennaio, febbraio e parte del marzo, le grandi nevicate e poi il disgelo, rendendo quasi impraticabili le strade, ci impedirono di spingerci oltre i muri del giardino, eccetto per andare in chiesa. Ma comunque fosse il tempo, dovevamo trascorrere un'ora al giorno all'aria aperta. I nostri vestiti erano insufficienti a proteggerci dal freddo pungente, non avevamo stivali e la neve ci penetrava nelle scarpe e le ammollava. Le mani senza guanti ci si gonfiavano e si coprivano di geloni, e così pure i piedi. Ricordo ancora il tormentoso prurito che provavo tutte le sere quando i piedi mi si infiammavano, e alla mattina la tortura di introdurre nelle scarpe gli alluci enfiati e doloranti. Inoltre la scarsità del cibo era desolante. Col vivace appetito che hanno i bambini in crescita, era appena sufficiente per mantenere in vita delle persone malaticce. Questo stato di cose procurava degli abusi di cui erano vittime le allieve più piccole. Tutte le volte che si offriva loro l'opportunità, le affamate ragazze più grandi, o con l'astuzia o con le minacce, si impadronivano della loro porzione. Più di una volta dovetti dividere con due pretendenti il prezioso boccone di pane scuro distribuito all'ora del tè, cedere a una terza metà del contenuto della tazza di caffè. Dopodiché ingoiavo il rimanente con l'aggiunta delle segrete lacrime che la fame mi strappava. Le domeniche erano tristi in quella stagione ventosa. Dovevamo percorrere due miglia per recarci alla chiesa di Blocker Ridge, dove ufficiava il nostro patrono. Si partiva in freddolite e si arrivava alla chiesa ancora più in freddolite. Durante la funzione della mattina il freddo quasi ci paralizzava. La chiesa era troppo distante perché si potesse ritornare per il pranzo e avveniva tra le funzioni una distribuzione di carne fredda e pane con la stessa scarsità osservata comunemente ai nostri pasti. Appena finita la funzione pomeridiana, ritornevamo a casa per una strada esposta e accidentata, dove il rigido vento invernale soffiando dalle vette nevose situate a nord quasi ci scorticava la pelle della faccia. Al ritorno, come si desiderava la luce, il calore del fuoco radioso. Ma alle più piccole già erano negati. Ogni cammino nell'aula era immediatamente circondato da una doppia fila di ragazze grandi e dietro di esse si raggruppavano le piccole che si avvolgevano le braccia gelate nei grembiuli. L'ora del tè portava un poco di conforto, sotto la forma di una doppia razione di pane, una fetta intera invece di mezza, con l'aggiunta di un delizioso velo di burro, un trattamento settimanale che aspettavamo da una domenica all'altra. In genere cercavo del mio meglio per riservarmi la metà di quel pasto generoso, ma l'altra metà ero invariabilmente costretta a cederla. Si passava la sera della domenica a ripetere a memoria al catechismo, e il quinto, sesto e settimo capitolo di San Matteo, e ad ascoltare un lungo sermone letto dalla signorina Miller, i cui irreprimibili sbadigli testimoniavano la sua stanchezza. Un frequente intermezzo di questi trattenimenti era la rappresentazione della parte dieutico, personificata da una mezza dozzina di ragazzine. Codeste vinte dal sonno cadevano in terra, se non dal terzo solaio, del quarto banco, ed erano raccolte mezze morte. Per rimediarvi le mettevano nel centro dell'aula e le costringevano a star dritte in piedi fino alla fine del sermone. Qualche volta non si reggevano e si piegavano su se stesse, allora erano issate su alti sgabelli dalla capoclasse. Non ho ancora parlato delle visite del signor Brocklehurst, perché infatti il detto signore rimase assente da casa per la maggior parte del primo mese della mia residenza a Lowood, forse perché aveva prolungato la sua visita dall'arciverscovo. La sua assenza era un sollievo per me. Non ho bisogno di dire che avevo le mie ragioni per temere il suo arrivo, ma alla fine arrivò. Un pomeriggio, erano tre settimane che ero a Lowood, stavo seduta con la lavagna fra le mani, arrovellandomi su una divisione. Levai gli occhi distrattamente verso la finestra e scorsi una persona che passava in quel momento. Riconobbi quasi istintivamente, quella forma magra. E quando due minuti dopo tutta la scolaresca, comprese le maestre, si alzarono en masse, non avrei avuto bisogno di guardare per assicurarmi dell'identità della persona a cui era rivolto il saluto. Attraversò l'aula a gran passi e vidi subito a fianco della signorina Temple, cheppure si era alzata, la stessa colonna nera che sul tappeto di Gateshead mi aveva guardata accigliato in maniera così sinistra. Ora potevo mirare quel pezzo d'architettura di fianco. Sì, avevo ragione, era il signor Brocklehurst, chiuso fino al collo nel suo pastrano e con l'aspetto più lungo, più stretto e più rigido che mai. Avevo le mie ragioni per essere atterrita da quella apparizione. Mi erano presenti fin troppo le allusioni perfide fatte dalla signora Reed alle mie inclinazioni. La promessa fatta dal signor Brocklehurst di informare la signorina Temple e le maestre sulla mia cattiva natura. Durante tutto quel tempo avevo temuto l'adempimento di questa promessa e tremato ogni giorno al pensiero dell'arrivo di quell'uomo le cui informazioni sulla mia vita passata dovevano per sempre pormi il marchio di una bambina cattiva. E ora era lì. Stava in piedi di fianco alla signorina Temple e le parlava a bassa voce nell'orecchio. Non dubitai che stesse mettendola al corrente della mia cattiveria e sorvegliavo i suoi occhi con angosciosa pena, aspettandomi di momento in momento di vedere il suo occhio oscuro lanciarmi uno sguardo di ripugnante disprezzo. Allora stetti ad ascoltare e siccome ero seduta vicinissima all'estremità della stanza afferrai la maggior parte di quel che diceva. Questo mi sollevò dalla prensione immediata. «Suppongo, signorina Temple, che il filo che ho comperato all'autunno andrà bene. Immagino che sarà la qualità che occorre per le camicie di tela a cotone. E ho preso anche gli aghi adatti. Potete dire alla signorina Smith che ho dimenticato di prender nota degli aghi da rammendo, ma che ne riceverà delle bustine la settimana prossima e che per nessuna ragione deve consegnare a ciascuna lieva più di un ago alla volta, perché se ne avessero di più finirebbero con non fare attenzione a perderli. E poi, signorina, vorrei che le calze di lana fossero tenute meglio. Durante la mia ultima visita andai nell'orto per esaminare il vestiario che era steso ad asciugare. Vi era una gran quantità di calze nere in pessimo stato. Dalle dimensioni dei buchi capì che non erano state berramendate di volta in volta. Egli si fermò. I vostri ordini saranno eseguiti, signore, disse la signorina Temple. E poi, signorina, continuò. La lavandaia mi ha detto che alcune ragazze hanno avuto due colletti puliti in una settimana. È troppo. Il regolamento non ne permette che uno. Credo di poterle spiegare la cosa, signore. Agnes e Catherine Johnston furono invitate al tè presso delle amiche di Lowton giovedì scorso e diedi loro il permesso di mettere il colletto pulito per quell'occasione. E signor Brockelhorst fece un cenno col capo. Bene, per una volta può passare, ma la prego che non capiti sovente una circostanza simile. E c'è un'altra cosa che mi sorprende. Ho trovato, facendo i conti con l'economa, che per due volte negli ultimi quindici giorni è stata distribuita una colazione di pane e formaggio alle ragazze. Come mai? Guardando il regolamento non trovo previsto tale pasto. Chi ha introdotto questa novità e con quale autorità? Ne sono io responsabile, signore, rispose la signorina Temple. La colazione era stata cucinata così male che agli allieve non fu possibile mangiarla. Non ebbi il coraggio di farle rimanere digiune fino a pranzo. Signorina, mi lasci parlare. Lei sa che il mio scopo allevando queste ragazze non è quello di abituarle al lusso e alle comodità, ma di indurle alla fatica, a renderle pazienti e umili. Se l'appetito per caso deluso per un piccolo incidente, come un cibo bruciato, un piatto mal preparato, non dovrebbero essere compensate del bene perduto con qualcosa di più raffinato. Così rimpinziamo i corpi. Si contraviene allo spirito di questa istituzione. Dovrebbe servire al miglioramento spirituale delle sue allieve, l'incoraggiarle a mostrarsi forti in una privazione materiale. Non sarebbe intempestivo in queste occasioni un discorsetto se un'educatrice accorta prendesse l'opportunità di ricordare alle allieve le sofferenze dei primi cristiani, i tormenti dei martiri, le esortazioni del nostro Signore Benedetto che invitava egli stesso, i suoi discepoli, a prendere la croce e seguirlo, i suoi avvertimenti, secondo cui l'uomo non dovrebbe vivere di solo pane, ma di ogni verbo che esce dalla bocca di Dio, il conforto divino che da lui procede. Se soffrirete la fame e la sete per mio amore, rallegratevene. Signorina, quando lei mette pane e formaggio invece di farinata bruciata nella bocca di queste bambine, forse nutre i loro corpi vili, ma non si accorge che affama le loro anime immortali. Il Signor Brocklehurst si fermò di nuovo, probabilmente soggiogato dai suoi stessi sentimenti. La Signorina Temple aveva abbassato il capo quando aveva cominciato a parlare, ma ora si mise a fissare dritto innanzi a sé e il suo volto, per natura di un pallore marmoreo, parve prendere del marmo anche la freddezza e la durezza. La sua bocca era serrata, che ci si sarebbe occorso uno scalpello da scultore per aprirla, e la fronte assunse un'austerità di pietra. Frattanto, il Signor Brocklehurst, dritto dinanzi al fuoco, con le sue mani dietro la schiena, osservava imponente tutta la scolaresca. A un tratto batte gli occhi come se la sua pupilla avesse incontrato qualcosa di abbacinante o emozionante. Si voltò e disse in una maniera più rapida di quel che avesse usato fino ad allora. Signorina Temple, che cos'è mai quella ragazza coi capelli ricci? Dei capelli rossi, signorina? Ricci? Tutti ricci? E allungando il bastone che gli tremava nella mano, indicò il terribile oggetto. È Giulia Severn, rispose la signorina Temple con molta calma. Giulia Severn, signorina, e perché lei ha un'altra ai capelli ricci? Perché, contrariamente ai principi e alle regole di questa casa, si conforma al modo di fuori così pubblicamente, qui, in un istituto evangelico e di carità, portando una massa di capelli ricci? I capelli di Giulia sono ricci naturalmente, rispose la signorina Temple, ancor più calma. Naturalmente? Sì, ma noi non dobbiamo attenerci alla natura. Voglio che queste ragazze siano figlie della grazia, e perché questa abbondanza. Ho detto e ridetto che desidero che i capelli siano pettinati lisci in maniera semplice e modesta. Signorina Temple, i capelli di questa ragazza devono essere completamente tagliati. Manderò un barbiere domani, e vedo anche delle altre che hanno troppo di quell'ornamento superfluo. Quella ragazza grande le dica di voltarsi. Dica a tutte quelle del primo banco di girare la faccia contro il muro. La signorina Temple si portò al fazzoletto alle labbra, come per spianare il sorriso involontario che le increspava. Diede l'ordine, e allorché le allieve della prima classe capirono quel che si voleva da esse, obbedirono. Spostandomi un poco indietro dal mio banco, potei vedere gli sguardi e le smorfie con cui esse commentarono questa manovra. Peccato che anche signor Brocklehurst non le potesse scorgere. Avrebbe forse compreso che qualunque fossero le misure esteriori che prendeva, l'animo di quelle fanciulle sfuggiva al suo programma oltre ogni dire. Egli scrutò al rovescio di quelle medaglie viventi per un cinque minuti, poi pronunciò la sentenza. Le sue parole uscirono con la solennità di una condanna. Tutte queste trecce devono essere tagliate. La signorina Temple tentò di far rimostranza. Signorina, proseguì, io servo a un maestro il cui regno non è di questo mondo. La mia missione è di mortificare in queste ragazze i desideri della carne, di insegnar loro a vestirsi con modestia e sobrietà e non amare pettinature studiate abbigliamenti costosi. E ciascuna di quelle giovinette dinnanzi a noi ha un fascio di capelli appuntati sulla testa che la vanità in persona forse ha intrecciato. Questi capelli, ripeto, devono essere tagliati. Pensate al tempo perduto al... Il signor Brocklehurst si interruppe per l'ingresso di tre visitatrici. Delle signore erano entrate nella stanza. Sarebbero dovute venire un momento prima per sentire il sermone sulla maniera di vestirsi, perché erano lussuosamente vestite in velluto, seta e pelliccia. Le due più giovani del terzetto, delle belle ragazze di 16-17 anni, portavano dei cappelli di pelo grigio, allora alla moda guarniti di piume di struzzo. Di sotto, la falda di questi graziosi copricapi sfuggiva una profusione di trecce morbide arricciate con arte. La più vecchia delle tre era avvolta in un costoso scialle di velluto orlato di ermellino e portava dei riccioli posticci alla francese. Queste signore furono ricevute con deferenza dalla signorina Temple nella loro qualità di signora e di signorine Brocklehurst. Furono accompagnate ai posti d'onori sulla podana. Erano venute in carrozza in compagnia del pastore e il loro congiunto, e avevano fatto un'ispezione delle camere del piano superiore, mentre egli aveva fatto i conti con l'economa, interrogato la lavandaia e fatta la predica alla direttrice. Ora esse rivolsero diverse osservazioni e rimproveri alla signorina Smith, che era incaricata di aver cura della biancheria e di ispezionare i dormitori. Ma io non ebbi il tempo di ascoltare ciò che dissero, perché altre cose attirarono la mia attenzione. Durante la conversazione del signor Brocklehurst con la signorina Temple, non avevo trascurato di pensare alla mia sicurezza personale, che avrei raggiunto se fosse riuscita a non essere osservata, e per questo stavo seduta ben indietro nel banco, e fingendo di essere occupata a far somme, reggevo la lavagna in modo da nascondere il viso. Avrei così potuto evitare d'essere vista, se la lavagna traditrice, scivolandomi disgraziatamente di mano, non si fosse rotta inopportunamente richiamando in tal modo tutti gli occhi su di me. Capì che era finita, e mentre mi abbassavo per raccogliere i due pezzi della lavagna, mi feci forza per affrontare il peggio. Questo non si fece aspettare. Ragazza negligente, disse signor Brocklehurst, che subito continuò. È la lieva nuova, vedo. E prima che potessi prendere fiato, non devo dimenticare che ho da dire una parola che la riguarda. Come mi parve alta quella voce. Che la bambina che ha rotto la lavagna venga avanti. Da sola non avrei potuto muovermi, ero paralizzata, ma due ragazze grandi che mi sedevano ai fianchi si misero in piedi e mi spinsero verso il terribile giudice. Poi la signorina Temple dolcemente mi prese vicina e sentì che mi sussurrava. Non aver paura, Jane. Ho visto che è stato per disgrazia. Non sarai punita. Il dolce sussurro mi entrò nel cuore come un pugnale. Un altro momento ed essa mi giudicherà un'ipocrita, pensai. E un impulso di rabbia contro i ri di Brocklehurst e compagnia mi ribollì nelle vene a quel pensiero. Non ero Helen Burns. Porta quello sgabello, disse il signor Brocklehurst, indicando uno sgabello alto da cui una capoclasse si era alzata in quel momento. Lo portai. Mettiti a sedere, bambina. Vi fui messa a sedere da non so chi. Non ero in condizione di poter osservare i particolari. Mi ero soltanto accorta che ero stata issata all'altezza del naso del signor Brocklehurst che era un metro da me e un fluttuare di mantelli di seta arancione e porpora e un mare di piume argente mi ondeggiavano davanti alla testa. Il signor Brocklehurst tossicchiò. Signore, disse rivolgendosi alla famiglia. Signorina Temple, maestre e ragazze, vedete tutti questa bambina? Naturalmente esse mi vedevano perché sentivo i loro occhi scorticarmi la pelle come lenti infuocate. Vedete che è ancora piccola. Osservate che possiede la forma di una comune fanciulla. Dio le ha dato la forma graziosa che ha dato a tutte voi. Non si ravvisa nessuna deformità particolare. Chi potrebbe immaginare che il maligno ha già trovato in lei una schiava e un'intermediaria. Eppure, mi dispiace dirlo, questa è la verità. Qui una pausa. Cominciai a notare che i miei nervi si paralizzavano e a sentire che il rubicone era passato e che non potendolo evitare il giudizio doveva essere sopportato con coraggio. Mie care bambine, continuò il nero pastore di marmo con enfasi. È un caso ben triste e melanconico, ma è mio dovere avvertirvi che questa bambina, che dovrebbe essere un agnello di Dio, è una piccola naufraga, non un membro del vero gregge, ma un'intrusa. Dovete stare in guardia ed evitare di seguire il suo esempio. Se è necessario, evitate la sua compagnia, escludetela dai vostri giochi e tenetela alla larga dalle vostre conversazioni. Maestre, dovete sorvegliarla, tener d'occhio ogni suo atto, pesar bene le sue parole, scrutare le sue azioni, punire il suo corpo per salvarne l'anima. Se ancora è possibile salvarle, perché mi trema la lingua nel parlare, perché questa ragazzina, questa bambina nata in un paese cristiano, è peggiore di molte piccole pagane che dicono le preghiere a Brama e si inginocchiano dinanzi a Juggernaut. Questa ragazza è una bugiarda. Seguì queste parole con una pausa di dieci minuti, durante la quale, in pieno possesso dei miei sensi, potei notare che tutti i componenti femminili della famiglia Brocklehurst cavavano fuori il fazzoletto e se lo portavano agli occhi, mentre la signorina più anziana si dondolava innanzi e indietro e le due più giovani sussurravano, spaventoso. Il signor Brocklehurst concluse. Ho appreso tutto questo dalla sua benefattrice. La signora Pia è caritatevole che l'ha adottò orfana, l'allevò come una propria figlia, e la cui bontà e generosità è stata contraccambiata da questa disgraziata, con tanta perfidia e ingratitudine, che alla fine la sua eccellente protettrice fu costretta a separarla dai propri figli per paura che il suo cattivo esempio potesse contaminare la loro purezza. È stata mandata qui per essere sanata, come gli ebrei una volta mandavano i loro malati, alla intorbidata piscina di Bethesda. E maestra e direttrice, vi prego di non lasciar che l'acqua pura venga a suo contatto. Con questo finale sublime il signor Brocklehurst abbottonò il bottone più alto del suo pastrano, mormorò qualche cosa alla propria famiglia, che si alzò, si inchinò dinnanzi alla signorina Temple, poi tutti i personaggi veleggiarono in gran pompa fuori dalla stanza. Arrivato alla porta il mio giudice si voltò e disse, fatela rimanere ancora una mezz'ora sullo sgabello e fate che nessuno le parli per il resto della giornata. Mi trovavo là, in alto, io che avevo dichiarato di non poter sopportare la vergogna di rimanere in piedi in mezzo alla stanza. Ora ero esposta agli occhi di tutte, su un piedistallo di infamia. Quali fossero i miei sentimenti, le parole non possono descrivere, ma come salivano in me accelerandomi la respirazione e stringendomi la gola. Una ragazza si alzò e mi passò vicina. Passando sollevò gli occhi. Che luce strana era in essi, che sensazione straordinaria provai per quel raggio che mi attraversò, che sentimenti nuovi suscitarono in me. Era come un martire o un eroe che, passando accanto a una schiava o una vittima, le desse forza con la sua presenza. Dominai il principio di una crisi isterica. Sollevai la testa e rimasi ferma sullo sgabello. Ellen Burns fece alla signorina Smith una domanda insignificante sul suo lavoro, fu sgridata per l'insulsaggine e ritornò al posto. Passando accanto a me mi sorrise di nuovo. Che sorriso! Ancora lo ricordo e so che era l'emanazione della sua intelligenza e del suo coraggio. I suoi lineamenti profondi, il volto sottile, i grigi occhi infossati avevano qualcosa che ricordava un angelo. Eppure, in quel momento, Ellen Burns portava sul braccio un distintivo con la scritta «Poca polizia». Solo un'ora prima era stata condannata dalla signorina Scutcher a pranzare la sera con pane e acqua, perché copiandolo aveva macchiato un esercizio, imperfezione della natura umana. Vi sono macchie sulla faccia dei pianeti più luminosi e degli occhi come quelli della signorina Scutcher possono vedere soltanto questi difetti minuscoli e sono ciechi a tutto lo splendore dell'astro. Bentornati su una razione senza importanza. Che personaggio rivoltante che è il reverendo Brock, allora se lo dico e non lo nego, è un personaggio orribile che rappresenta tutto quello che detesto. Quindi, insomma, questa è la mia personalissima opinione, ma insomma, credo che la condividerete. E qui, insomma, dobbiamo riconoscere che Jane si trova in una situazione in cui ci si è messa involontariamente lei stessa e che va un po' a riconfermare proprio quelle sue paure con cui era arrivata a Lowood e non solo, deve anche fare i conti con la sua natura ribelle e con invece la saggezza di abbozzare quando necessario. Ditemi cosa ne pensate voi. Come sempre vi ringrazio per essere state mia compagnia. Se il mio progetto vi sta piacendo potete sostenerlo iscrivendovi al canale, mettendo un like, un commento, condividendo il video. Potete venirmi a trovare anche su Instagram una razione senza importanza e come sempre vi aspetto al prossimo capitolo. Alla prossima!